ciao ragazzi tutto bene per gli italiani che sono sul mio canale io ce l'ho un altro canale che parlo solo italiano allora lascio qua sotto nella descrizione il link e il sito per poter entrare sul canale italiano che parlo solo italiano questo diciamo è un canale brasiliano allora io ho fatto un canale italiano per poter condividere con voi alcune cose e sono felice di poter parlare italiano nell'altro canale va bene allora lascio qua sotto è il nome del canale e per entrare va bene un bacio e ci vediamo alla prossima ciao